non è una scuola però no bobo madonna ci stiamo a divertire non abbiamo fatto niente di che devo mettere il gioco ora va si io non lo conosco cioè io non ho un amico che c'ha su sto gioco madonna io manco veramente pure io gli italiani stanno poco su sto gioco no ma vero è un gioco troppo bello se no vabbè servirebbe solo qualche aggiornamento un po' serio lo sistemano qualcosina cioè non è che modemolo sistema perché è rotto cioè è uscito ieri cioè ieri mo è uscito pochi giorni fa non è che possiamo paretare subito però a voi però mancherebbe solo un aggiornamento sai alcune parti come si fa a cliccare due volte c'è per mandare sempre avanti li preme l'analogico l3 cioè che corre ma adesso lo preme proprio l'analogico e basta senza che cazzo ah ok no è per fare tipo il blocco che ancora sembra ah quello non lo so vediamo? eh vedi tu che troia scendi 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 veloce ah così fatti una cazzata su uno scelso il blu oh cazzo fatti una grandissima cagata però c'è un sacco di robe eh raga sono noi quale è meglio la prima o la seconda visora? io uso la prima vedi te eh io pure segui vieni con noi eh non andrà troppo anche perché alla fine come si ci pensi ah rega vi servete uno? eh sì sì però non so raga fiamo questo meglio di niente quindi devo tenere la premuta semplicemente si ok vedi da che tocco cosa automatica vedi non me va lui a te come ti posso dire se ti chiamare chi? a te ok eh no se ti chiamare è il nome dico scegli o lupo puttana la cosa c'è è facile lupo lupo non è difficile che ne so perché lui c'è il nome africano no dico lui c'è il nome africano la prima prima che lo leggi dimmi che hai trovato qualcosa perché c'è una pistola la revolvero pistola tutta la vita la pistola dov'è un cacchio di zaino porca la voglia lascio 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 oh no no sentivo le passi mi sono incerto di colpo eh zaino sta qua e vettela a prendere qui dove sto vedi vedi qui dentro qua grazie c'è solo una pistola è un vigile a po' occhio che arrivano ma tu sei lontani dalla safe uh a k credo di essere non lontano non lontanissimi invece siamo vicino infatti poi il terzo ha fatto il porto è andato da solo non c'è lì la bellezza era abbastanza qualcuno ha un mirino no è l'ero cosa c'è lì dentro qua un po' un po' un mirino che mi serve il resto è tutto tuo grazie capirai qua che grande risorsa ci sta dentro beh questo fa comodo ah questo è il calcio c'è il sì quella uscina è la è lì 1 a livello 2 Ti servono i 30 colpi del 5 di Pond Saver? A me? 5 e 56 no Per ora no Puntatore laser Top Mamma mia come sta io Lo voglio pure un mirino Perché almeno la comprai di tutta quanta Che rimani senza mirino Aspetta perché io ho Questo Prenditi questo qua aspetta un po' Ti lascio questo Allora Io ti posso dar l'orografico vero? Io ti do Questo E questo Dai sta lì a terra Eh me ne ridavo mi sa No no posso Così almeno c'ho due fucili abbastanza bonini Va che il vetto fa cagare Però Da vicino e scioglie il vetto Da vicino e sciotta Andiamo veloce e muoviti Vieni vieni Sì vieni L'ultima cosa manca per fare Ma ma quanto sto lontano No no sembra ma guarda che fra 30 secondi sia lì eh No non c'ho No intendevo lui Lui da noi Lui Scusa perché mi cavo i caffettini mi fanno un caldo incredibile Oh Adesso ci siamo Adesso si balla Andiamo Ok Ok Che è meglio Eh si te recupera perché sei indietro un bel po' Guarda che bello strappiombo che abbiamo qua Facciamo un salto ci siamo morti Poi si fa il numero Fortu Ti tieni per muta R1 Continua con l'analogico di sinistra andando su Sì ehm C'è l'analogico di destra tutto lo visuale Ah si guida cioè visuale libera Cioè guardi solo lo visuale Puoi anche riuscire a guardarti dietro ho capito Però devi sempre tenere cioè Ah ok 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 in terza versione ok capito Noi pensavo che volevi vedere il fatto da del mirino che si può cambiare la luminosità La luminosità del mirino Ma no non si può Sì 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 La luminosità del mirino Sì quando Sì 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 capito Vedere meglio il cibo Eh capito lo intendi Un per sei Ciao Ciao E raga quando troverà Trovate un assalto in più Direi che non è perché non è Eh Cosa è un assalto? Cosa è un assalto? Eh Cosa è un assalto? Ti vedevi? Oh buono ma capirai O chi sta giocando Sì Cosa c'è qua? C'è l'altro Che è assalto? Cosa vuole? Ci è l'assalto? Sì Oh raga c'è qualcuno Come c'è qualcuno? Ti serve questo? Cosa? Eh L'amp L'amp Prendilo pure Sennò da lui C'è lo prendevo io volentieri Qua c'è un per 4 Prenditi questo qua Lo vuoi per 4 Aspetta Questo qua Questo qua Questo qua Ok Sennò che muovere come Dove hai visto gente? Dove hai visto gente? No 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 scherzavo Eravate voi che se lo vuoi Non è capire il suo gregno No scusami Hai colpi medi? Colpi? Medi? Medi? Andiamo? Cioè sì Della salta Assalto Eh mi vedi il numero però Quanti ce n'hai per ora Aspetta Te li dobbiamo avanti Ce n'è Sono 30 No sono 30 Allora spero Lasciateli qua Vedi sotto l'arma cosa sta scritto 9 mm Quanti ce n'hai per ora Quanti ce n'hai per ora Sì è un ottimo 7,6 mm Eh vai Sanno 4 Uh prevedente questo Grazie mille Cosa vuoi? Ti lascio anche questo Guarda Guarda ragazzi Questo è tu Raga davanti a noi Eh sto La casa lì? Mi metto Sì sì Uh Grazie per il mirino Mi esco fuori Questo non vi piace ragazzo? Questa casa qui è 80 vero? Sì Eccoli sono usciti Quanti sono? Sì di dietro Eh sta dietro quell'albero lì Madonna Tipo arriva Che cosa è quello Racrimogeno? Sta scappando raga No C'è io Sto scappando Ferito È morto il suo amico Non lo so Io ho ferito molto uno Ragazzi saranno a camperon con la casa Sì stanno su quella rossa E' un morto Eh Sto andando qua da sinistra Io non so se qua dentro qua ci sta qualcuno Aspetta un po' Vediamo prima se qua sta qualcuno Aspetta un po' Aspetta un po' Sì no se ne sono andati Ma qui è Ma Siamo manco questa casa qui Allora è proprio tirato dritto No raga fidate che sono qui dentro Dentro? Sì 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 E per forza perché non li vediamo È proprio qua Penso che Sì sì Ci sono le porte aperte Quindi Cioè Chiuse quindi Uno che vuole curarsi Oh l'ho visto l'ho visto l'ho visto l'ho visto Stava qua a sinistra È 130 Adietro la casa qua L'ho visto correre Non lo so Eccolo È uno entrato in questa qua rossa Ah no la tappi Eh la si l'avevo Ecco Qua all'angolo No Quindi dov'è Attento No Cazzo Mamma mia raga Io Raga questi qua il problema è che li devono uccidere subito Perché hanno avuto il tempo di curarsi e tutto quanto Vero vero Vabbè ma almeno viene anche lucida la mano anche tu Thomas Eh due morti? Sì Certo Malissima Allora Guidate Se streammando su Twitch o su Youtube? Youtube ma perché sono dei miei amici che vedono Non hanno niente da fare Ah 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 stai mi stream? Sì capirai frastano Mi ci viene Sì sì no Ah c'era un messaggio Ah c'era un messaggio Facciamo a cazzo breve amici abbiamo fatto wettepart Il messaggio è Avviva La Sì K47 Eh ragazzi la mia ho saltato Thomas 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 Stubato No Thomas Non ci sei qua Thomas Porco Porco Portadono Negozze cosa si può comprare Un cazzo Una roba che non ti conviene Quando ti ce la fai accettando tra gli amici Ah io ti ho accettato C'è anche il biondone Madonna ciao Allora No io non ti vedo non sei online Ehm Sì è vero scusa perdono No ma è offline Vuoi rimanere offline? No 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 Bisogna essere lei Vabbè 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 Ho provato a invitarti da parte Vivo Ok ok ma l'ho invitato Ah ma qua come devo fare Ottieni Ah si cose punti E sfide Qua E scatta ricompense Ora notte è il lupo puttano Esattamente Ehm Gioca Raggiungi 10 giocatori migliori in modalità squadra Ragazzi Devo Non raccomando i 10 giocatori migliori Eh Non ti preoccupare Adesso si fa proprio i seri Eh raga Sassano si campera Portumigno chi ha? Io Portumigno Portumigno Lupo puttano Io E invece l'altro chi ha? Io Allora I nomi sono Tom Lupo Fortu E Ma a me anche Stefano se ti serve E gai E gai Gai Qua teniamo i nomi in codici Non gay eh Non gay Non gay eh E c'era tutta la vita Qua dobbiamo i nomi in codici Che quando stiamo in guerra Ci dobbiamo chiamare subito No 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 veramente ragazzi Devo stare qua Ma che cazzo è voi Sono dessa La pelleccia di dopo Da dove è giocata? Beh Dove devi Ah da dove è giocata E la vediamo un attimo così Come domanda Ehm Gaeta Non so se sta dove Gaeta Porca troia Non mi è nuovo Tu fai Gaeta Gaeta è tipo Sopra Napoli Ah Tipo eh Tipo Conosci No so Itri Formia Scavri Non so se hai presente In questa città Ah Scavri Sì Io lo conosco Se conosci Formia è praticamente A fianco A un chilometro Tipo Perché se andiamo in prigione No no Ok Che in prigione No Guarda qua Guarda qua Guarda il segnalino Ok 3 2 1 Quanto qua non ci viene nessuno Quanto siamo organizzati O Che Vabbè Ecco Lo stavo già anch'io Potremmo trovare una macchina Quella La Sheffield È l'ultimo Dei nostri problemi Mamma mia Ci sarà un boccio di casa Però E Siamo Mi sembra di vedere Da solo Tu dici Guarda se siamo Andiamo Da cannone Ragazzi Riusciamo Qualcuno Sta a fare umore Prova da staccare Attaccare cuffie Non so Grazie Lo sento Pure io Ok No ragazzo Solo macete Io ce l'ho a fianco Dove è Devo provare a gioventarsi Adesso Ma perché Tu giochi con la prima No Io Per l'utero Non riesco A l'utero Come in prima Eh Facciamo Che c'è Il dito E il carto Da sinistra E qua Questa Un 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 sì questa qua destra qua sopra le finestre a destra visto ragazzi ma dovrebbe essere abbastanza distratto il tempo di arrivare la nostra terra me so cagato sotto qualche manca la bruttana di sua mamma un pochino dell'ultimo poterà lasciare c'è una piccola pistola oh ragazzi ricordatevi lo sapevo quanto lo sapevo sto caricando bravo fuori uno e rianimare io vedo se ci stanno altri come fanno spawn ok raga dovete io ho capito però non poter farci forse sopra dietro la casa la scocciata dai raga eccolo è sopra ora ah no no ma addio mio cazzo è sopra la casa è sopra questo qualcuno no perché non mi hai guardato devi fare un po' di bordello fai un po' di bordello che macello raga non ho capito dove è si è sulla casa quella che stavo mirando prima ah io sto sulla casa eh è pesante quella vado nell'altra parte che sono in tre vedi che dopo si mette vada ragazzi vada 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 ok lo vedo mi curro un attimo no non riesco a vedere mi devo levati qua corri no aspetta eh provo a salire lì attenti eh ok siamo tutti vivi per ora per ora si però dobbiamo stare attenti eh non hai cure niente no niente lo vedo dove sta eh sempre in quella casa lì provo da qui a queste finestre qua a destra ok lo vedo lo vedo lo vedo lo vedo questa faccia è distrutto ok esce fuori attento mira fuori qui cosa è che la grafica non è il massimo eh lo so però eh vabbò sta alla seconda finestra hai visto ma questa è una ma è tutto salvo per uno solo così no no ragazzi coordinata per fora eh casa 330 comunque sta in sé per 40 stai il piano di sovra ragazzi avete col più medaglietta aspetta si vieni da me tu sei il gianno ok provo a pushar un po' no raga andate da lupo eccomi ci sono di arriciano lo vedi tu? io non lo vedo tu no ma qua è vero stiamo ancora inutti di cui ti dà di prima ragazzi ce la faccio facciamo veloce veloce appende tutto a questo che si rischia tantissimo eh io c'ho uno scarro comunque no 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 raga attenti l'ho visto c'è la sinistra è morto è morto è morto è morto però non so come venire a prenderti andate a lui non è morto quello è proprio morto si si rianima la luce qualcuno mi deve da un mirino mi posso coprire sto caricando no c'è un credo allora posso bar lupo a me servono servono 556 e possibilmente miri raga mi servono anch'io eh mirino no vabbè solo se puoi no tanto guarda ma muoio sicuro mirino mica lo tieni no eh no raga allora quello là che avete ucciso era questo sa che stava qua sopra tu dici eh perché non ci stavo cioè io sono andato là nella casa non c'è io comunque c'ho lo scarro lo vuoi tu allora c'è non ho un mirino c'è un per quattro qui eh lo vuole per quattro potrebbe servire a me però vieni qua Thomas vieni qua di me qua ci sono anche venite tutti qui dove è cioè c'è per tutti bene sto qua Thomas qui ci sono per te qui c'è il ok una delle due si che dico si eh vabbè metti qua sopra vabbè vabbè ma non sai fare doppia cosa eh si mi serve perché mi serve ma no 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 ehm si eh spero mi servirebbe solo miri dove sei ok grazie grazie eh raga io vado ad aiutare altre ragazze quelle allora ragazzi ho tipo ho tipo una come si chiama nell'MG eh non so se qualcuno può servire le mie ore questa giubbotto ci vuoi sanno? alla fine ci siamo si si è un camera eh raga raga ho trovato un perotto eh vabbè per ora è un po' inutile questo non è il netto giubbotti vabbè il tanto è inutile quello cambio questo raccoglimi fino allo grafico no no così è andato qualcuno eh perché sta una porta aperta non stava pari niente vabbè io lo scarro lo tengo a singolo per ora diciamo l'altra automatica la modalità a fuoco automatica significa sparare le edizioni giusto? si si eh sparare i contini l'affica spera che potrei la botta e voi cosa mi consigliate? singolo o come? eh ti vedete eh l'affica dipende da quello che ci fa graficamente sì sì cioè decide che vi trova bene tu può essere che ti trovi meglio quel singolo no può essere ci trovi pure meglio quella tra le situazioni ho vicino ce l'hai vicino raffica è il perfetto ce l'hai lontano raffica fa bene esatto sto tutto lì dalle situazioni come l'interprete ok ok ci ho ucciso uno da lontano per raffica una partita avrò sprecato forse il tuo caricatore altro fenomeno che mi serviva proprio ma guarda che coincidenza due per quattro ma che sbordante ma che sbordante ho giuppa livello in due è buono ciao ciao vieni allora ragazzi ci vedo altre cure se avete trovato altre cure non ho niente ho trovato tutto tutto quello che vede mi ringrazio mi ringrazio mi ringrazio che ho messo i segnali non sono i segnali non sono i segnali non sono i segnali che c'è che ha sparato andiamo oh silenziatore buono no mitra che rega qualcuno c'è il mitra mitra no no è stato un po' è stato il silenziatore è stato il silenziatore però cambia sono due o tre o quattro non cambia le grazie un po' è stato un po' indietro io muovi raggi sì muovi sicuramente aspettiamo io so con loro perché non è sicuro niente io so con loro non sto tanto l'utato urbane però qua c'è un bike boost un'occhiata davanti a noi bellissime eh dipende come bellissime speriamo di lutto perché mi serve un assalto c'è solo una medaglietta da vicino è un pompa perché raga sto qua no poi c'è il pompa è la R quindi aspettiamo che qua sembra non ci sia dovuto aspetta trovate un assalto in più chiamate mi serve ci stavano a scar mi stava all'altra volta no scar l'ho preso io un po' da tutto qua c'è un tom se lo metto a prenderla ok un attimo livello 1 ma lo piglia sempre ok è un attimo c'è un tom stiamo qui ma io ho iniziato da mezz'ora la partita non c'è ancora un almetto non c'è ancora la partita non c'è ancora io ho un caricatore esteso per dmr e sr so quaterno il caricatore steso pistola metto e metto raga no 556 a bella l'aiuto io le troverò si tanto mi servono ma non me lo servono anche io siamo sali tutte le case dappertutto no cosa 62 servono a qualcuno meno a 762 sito dell'utente dice ritengo perché io tengo ancora la carissima lmc raga come la mettiamo con questo raga c'è il jammerino qua sono dei colpi anzolati che sono quanto sono 762 non sono messo messo senza il mirino per il tipo ora ci potremmo mettere qua camper radio si raga su dove anche io non li vedo anche io non li vedo ma vedere di rimanere qua così oh mp venti buono te che ha deciso di buttarsi qua ti ho avuto un'illusione hai già deciso di farti qua come te lo so si chiama ah l'ipopica ah ci ho avuto un'illuminazione stavo in tre stavo rovinato vedo una moto da qua una macchina 105 moto e macchina sono vengono persi di noi no no non so il movimento so sterno ok 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 ci chiediamo ce l'hai un centino cioè ci piace bene che è ormai eh no io c'ho il mc14 col per 4 buono si dividete si io non è una gente non è un'utile star a farvi gli schifichi euro rifiutiamo il pacco e andiamo avanti ma c'è io non ho proprio più spazio ma pure io tieni guarda qui, guarda quanto roba ti lascio per terra eh questo lo vi è mi piace con l'uvo faccio la formica, lo prometto allora mi hai tentato oh, stacca 245 qua ancora non li vedo c'è un po' 41 finita io pure, io riparrei là sopra perchè ci dobbiamo pure la terza eh raga, mica siamo pure safe un posto in 6 un posto in 6 no, un posto in 6 un posto in 6 un posto in 6 No, è più che altro che potrebbe arrivare durante la... Ah, no, in realtà no, ci stavamo noi prima, da adesso. Ci stavamo noi prima, quindi meglio, ci stavamo questo broppo sentire. Ma voglio vedere da qui, no? Non vedo, non vedo veramente nessuno. Pure io. Vado quel gruppo di fratella. Vabbè, sicuramente staranno dal mezzo. Fino a sud-est, in tutta quella zona lì, che è nella maggior parte della mappa dietro. Non c'è anche nessuno, eh. Però se non è luttato il coso di quasi a sud-ovest. Guarda che ha 10 secondi e c'è la nuova safe. Ma sì. Quello che dice quello che c'è a... dove non c'è venuto io. No, 10 secondi, intanto sta partendo la safe. Ah, comunque, ci sta un airdrop qua a 295 e qualcuno lo va a prenderci di broppo. Sì, allora noi facciamo una bella imboscata, raga. Dov'è? Sì, allora lo vediamo. Esatto. Vedete che cade proprio nella radura più aperta. Top. E ci va. Top. Top, top, vabbè. Mamma, raga, tutti quanti. Io con la meraviglia di Tosklaus. Vallo a prendere, vallo a prendere. Lo vedo di brutto, cadi in mezzo agli alberi. Meraviglioso. Spero... No, mi finà? No, ma credo che... Ah, spero, spero. Fermi i mobili, non muovetevi. Non dovete muoverli. Che appena vi muovete qui... Raga... Pum. Eccolo. Eccolo. Guardatelo bene. Perché fra 3 secondi ci avviciniamo... Raga, ma la mira non si può inclinare quando stiamo sdraiati, no? Sì. Ok. Ah, no. La mira non so l'uno. Sì, no. Ah, ok, lo vedo il fumo rosso. Ok, a posto. Eh, raga, la sempre sta un po' lontano. No, no, no. Ci giriamo intorno. Esatto. Non facciamo... Non facciamo i pazzi, raga. Aspettiamo che c'è anche fisso. Va a finire che... Raga, comunque stanno veramente vicini, eh. Stanno poi a casa su voi. Ma tu li caffro mica. Thomas. Stai giù. Allora tutti li chiamo Tommy. Vabbè, raga, basta che ci capiamo. Oh, cazzo. Oddio, raga. Casa veramente è qua, eh. Dov'è? Eh, le case. Eh, sta qua, è qua la casa. Questa casa è qua su dove? Stai sicuro? È per forza. Lo sento troppo vicino. Raga, io lo sentivo tipo a casa 265. Eh, io pure. Mi sono arrivati tipo dei colpi. Certo che sto tentato a prendere arti. Tu vuoi al sinistro ancora. Se ci vai, stai giù. No, non vado, non vado. Non vado, non vado. E ti devi muovere piano piano per arrivarsi, eh. Raga. Ma qua ci si andrà in solo perché sta in mezzo agli alberi in sé. E quindi ci vediamo un bello tipo quanto è. Eh, ma fra dieci secondi fa un po'. Eh, raga, eh, non lo so. Perché sta quella casa là qua al centro e dentro. Sicuro. Vado, raga, io vado. Vado qua prima, io massaggio. No, 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 non farmi il cazzo. No, dove vai, dove vai? Non abbiamo già fatto un masto solo per i cazzi suoni. No, mica sto da solo per i cazzi miei. State qua. Oh, boh, state all'acqua bene. Non possiamo stati tutti avvicinati. C'è una granata. Eh. No, questo è un'altra bellissima. Io ci vado. No, raga, le ringhiere, le ringhiere si stanno alzando come degli ascensori. Ragazzi, voi dite che mi vede da qua. Dai, dai, dai. Ci sta, c'è qua. Giubbo, zaino, giletto. Oh, la suite. Questa mi serve. La metto. Vieni a portare. Vieni qui Gaetano, guarda che cosa ci serve che ti attiramenti di tutta la partita che non è un cazzo. Almeno prendi qualcosa. Ok, ok. Ok, questo. Poi mi serve questo. Eccolo, uno, 210. Sta correndo. Visto. Dov'è? Un altro, 210. Ok, lo vedo. A terra. Bravo, bravo. L'altro. Siamo rimasti. Un altro. Il stato, il stato, no, raga, di cosa. Ok. Terra. Il stato. Morto. Raga, non ho più colpi, eh. 7, 7, 76 assalto. No. Non capito da dove. Raga, sopra la casa. Casa, casa, casa. Ma tu non c'ho vita. Chi sgancia? Ammai dritto? Io, io, io. Eh, c'è nevoca. No, ma da dove? No, raga. Ok, no. Raga, bravi, lanciate le smoke. No, no, aiù. Raga, ci sarvano le smoke, lo bello, non è il tese. Chiamo i tè, chiamo i tè, Thomas. Bella vaga. Tese, rumi, tese. Corri. No, raga. Ok, ci saranno combattere i loro. No, raga, stanno qua, stanno qua, stanno qua, stanno qua a fianco. No, muoio per a 6, non ci credo. Minchia, sono morto. E lì, Thomas, c'è lì, dietro di te. Eh, c'è una flashback, sto stordito. Sto stordito, c'è la flashback. Non c'è la flashback? No, raga, comunque abbiamo fatto una bella partita. Dio ci siamo neri, allora, voi. Ma perché non mi finiscono mai con le torcine? Non avevo più colpi. Bella partita. Quente? Ma buona. Buona. Io ho perso tempo. È una donna di vena, quindi. Io ho perso tempo per piedi colpi, perché se c'avessi avuto i colpi, sarei manco morto. Ah, bella partita. Ah, è piaciuto. Sì. 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 Peccato, dai. Ma sta vita rompere, vabbè. Anco io? Sì. Erangel per queste cose mi piace di più come mappa, nelle fasi finali. Forse le partite durano un po' troppo, però nelle fasi finali è il più bello Erangel. Eh, rispetto a Sanok. Deserto. Eh, però sanno che c'ho il contrario, mi piace nelle fasi iniziali di lutta, cioè però però nelle fasi finali non mi rispida. non lo so. Non lo so. Miramar non mi piace, proprio... Sì, è farto. Eh, infatti Miramar, lo so vero. Cioè, cioè, non ti vede per nessuno. Non ti vede per nessuno. Forse è un'aperta. E non sa che sono pochì riguardo, non fa l'erba, quindi... Qua c'è il cecchino è fatto. Eh, dove andiamo andato? Dove andiamo andato a... Allora, ci sta qua la villa, che è molto buono. Sì. Sto visto, per il junkyard? Sto in alto. Ditemi qua, ragà, io non lo so. Io vorrei junkyard. Ok. No, non mi faccio un'ossa. Sì, spero, è lontana, sì. Scusa, hai detto grazie per il sub, prima. Ch'io? Sì, ho sentito un'altra brinca. No, però io ho parlato. No, stai di all'altro. A te. A me. No, io non sto facendo. Non sto facendo. Non posso dare allucinazione. Sto facendo. Mamma mia. Quello non danno le città. Vado a lontano. Ah sì, ti ho detto, a lei piacciono le cose difficili, dice no, non è difficile. Ma che ha fatto? Oh, che è tanto. Sì. Ah, guarda, il paracadute è per sbaglio. Questa è un po' forte. Ah, dove è andata? Tu a destra, vieni a destra, vieni a destra. Qui, raga? Eh, sta un... Stai gente. Eh, sta un team. Io però... Sto praticamente arrivato. Io vado quella che... Io vado quella tipo alla fabbrica. Eh, questa qua che dice qua. Eh, ci stanno da lui, però, qua. No, no, no. Qua. Eh, sta uno. Come sta? Raga, lo c'è vengo subito. Eh, raga, allora io sono morto, praticamente. Che sto senza armi. Ma io sto io, sì. Oh, il giro sta uno. Oh, non so appena cazzotti, raga. E ti verrebbe una male, solo che... Faccio di merda, qui qua. Oh, ma sta scappando, si vede di fare. Ma raga, rizza. Oh, stai dietro, stai dietro, stai dietro, va. Oh, dio. Allora, ho tirato un petto. Sto venendo, raga, mi metto a sacciarmi e vengo... No! Sono qui. Eh, però no. Aiuto! Raga, non ho trovato un'arma, io. E lì, che ti guarda, eh? Eh, mi sto sperando. Ma perché loro trovano le armi fortissime? Una terra, raga. Ragazzi, è di volontà di cuore. Vieni qua, Thomas. Thomas, vieni qua. Io il pompo, io gli faccio il culo. Da. Vai. Ragazzi, dami. Andrà dietro. Stai lì fermo, forse, stai lì fermo. Vai. Grazie. Ragazzi, uno sta a terra, comunque. Eh, quello è ciò per lavorare nel due anni. E qua. No, 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 no. Oddio. Il dato, AKO, AKO, AKO. Buona. No. Madonna, quanto siamo partiti male. Oh, il tuo Dio. Andiamo, andiamo. Dove è questo figlio di Pucca? Quella, quella. Eh, qui, è qui. Eh, c'è. Eh, buona. No, che tal. Buona, buona. Il rosa. Lo è stato. C'è anche degli... Dove cazzo stai? no raga però scusate raga ragazzi ce la stavamo pure a fa io avevo trovato sto fucile che macello vai metto metto pronto arrivo subito intanto potete avviare ma intanto l'ho messo pronto iscriviti al canale Grazie. Grazie. Ah, ora lo guardo il segnalino. Ok. Quindi verso 140. No, anche di più. Ok, sei tutti? Si. Dove gli andai? Esci, esci, esci. Guarda il segnalino. Guarda il segnalino. Guarda, sei un po' lontano. No, ma sono lontani. Allora, ok, sei un po' lontano. Io sono quello verde, ci sono cambiati colori. Vieni quanto sono io. Va bene. Buona così. Io sono ancora in aria. Eh, scendi allora. Eh, scendi allora. Eh, ragazzi, ho tosto due casette al bambino. Io sono atterrato nel nulla, ragazzi. Ma io ce l'ho di un bagno, se volete. Non capisco come si orienta a soparacadute qui in dubb. Solo con una levetta che io so. Ah, ho tosto due. No. Eh, 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 eh. Ah, c'è la mia, e le pujard tutte le. Ok, l'ho trovato Alleluia, è un assalto come prima arma, che è morto Come che è morto? Che domani Ah, ok No, è senza No, no, niente Ce l'ho io, se vuoi te la posso dare C'è come? Il livello... Aspetta, se il 200 vuol dire 2? No, 1 1, 1 No, vabbè non pari Eh ragazzi, vengo con la Gimbaldi Come vedi lui? Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è Non c'è, non c'è, non c'è Non c'è, non c'è Porca maiala Però dici, oi, sono lontano Venitemi a prendere Eh, lo ho detto, lo ho detto, vedi Vieni, vieni Dagli un baghino Se ti vorrei invalsami fuori il lutto Grazie Non c'è niente in quella casa Ragazzi, stiamo in centro Ora, se abbiamo un cappello di luce Ma c'è anche il centro Solo che c'è un cappello di luttore Ma che bella arma Vuoh, non prendi, te l'amai Ma mai che casino, è stato fatto Che mi dici, che cosa hai dovuto prendere Ragazzi, ve levate a Maggiano Ma non lasciamo un po' di armi Ah, ok, munizioni, ok, che armi Che Vai, questo qua Il barrel lo volete voi, sì Ok No, 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 io non voglio più niente Mi tengo solo il back a casa Come no, allora me lo viene il barrel A me non mi ucci Cioè Me lo viene a me Oh, bravi ragazzi Questo va raffido Aspetta, vieni qua A me Ti lascio un po' di rollo per te Mi lasciate un po' di 762 per cortesia Ti vieni Ehm Abbiate andora, te li posso da Ti vieni, stanno qua Tutti vai E sono quelli che sono No, tutti no Prendi quelli Ragazzi, la volete coprire i fiammi a mitraietta? Ehm Nord-est No Ragazzi, a me si vedebbero 9 mm Non lasciate più vaghi là però Ah, e pensavo... No, ma ci ricordiamo tanto Tanto qua giocato Ma solo di versione possono salire qua su Solo di versione possono salire qua su Ok, giubbotto a livello 2 Io devo trovare un assalto più che altro Che ti serve? Ah, il kit Ti è motolo, ho preso proprio senza pensarci No, no, l'ho trovato Ho appena trovato il kit medico tuttale Ah, poi solo la valigetta No, dicevo Ah, già nel livello 2 Buono Ragà, non ho i millimetri Eh, mi servono Sto veramente con le cose contate Cosa ti serve? 2 mm Ok, ce l'ho io in basso Ce l'ho anch'io un po' Eh, lo vediamo un po' Mi ricordo, ma è foto Aspetta, senti una luce Passa che... Ah, meglio li do io Ok, danno io Perché per ora è solo questo qua Quindi mi servono solo sti colpi Ci vuole troppo Questa qui, fa bene Guarda, Thomas, noi siamo venuti da qui Ci siamo andati qua? Però, dobbiamo andare verso il 100% qui A me piacerebbe andare qui Andiamo Dove siamo andati prima? No Qui non c'è, ci sei venuto te Ah, ci siete venuti in via C'è, ci è andato Sì Allora andiamo a shooting range Che bello, grazie Dai Ci sei andato la gente Paccato che hai d'un baggi Due botti Io parto Qualcuno salga con lui Vai, vengo a te Ah, perché ci stanno due d'un baggi? No, ce ne sono due, però Farai sciù giù Non ti pensi in noi? No Ma il suo rumore lo sento solo io Oppure è tipo la pioggia Mi faceva pena che voi andavate da soli Quindi ho deciso di schiantarmi In modo che... Sono pazzo Eh, ma mi sa che ci sono passati C'è gente qua È già passata gente Purtroppo sì Ma c'è ancora oppure... C'è stato Sembra Oddio la padaria Ma ci stavano a zaino prima Ma... In queste case? Aspetta che forse... No, non l'hai scossa Eh, io c'ho uno di livello 1 Come questo, tanto io devo capire che te lo portiamo Ma te ce l'hai? No, cioè c'ho solo uno Se vuoi te lo do perché non non è che tengo questa che cosa Non è che io te mi dicevo cosa Non sono due Poi c'è il centro di livello 1 Ma te lo ho fatto E' un po' C'è un po' C'è un po' Lo va, lo va, lo va Ti posso dare il mio? No, ma che è un po' Eh, no, no, vai tra C'è un po' C'è un po' C'è un po' C'è un po' E dobbiamo Tadare No, 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 no Se vuoi, non c'è problema No, 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 no No, 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 no E dati dati della vita No, no, solo bene No, no, solo bene Regà Io farei Una venti anni secondi Diciamo di ricognizione Perché qua ci sta Cioè Dall'alto possiamo vedere Se ci sta qualcuno Ma che mirini avete? Nessuno Cioè c'è un orografico da mettere No, non è il per tre È il per due Stavolta ci sto io come Gaetano No, vabbè Basta chiedendo il supporto di tutti No, sono pazzo No, vabbè No, intanto c'è gente che si guida con le granate Oh, che dici? Non è che è un bravo strano Non fa nessuno Eh, lo so, pure a me Però Non ho niente da perdere Sai com'è? Troppo Vai piano, Furtro Vai piano Perché te non hai niente da perdere Però dopo noi siamo i tre Non i quattro E siamo più massacati i quattro Quindi per cortesia stai con noi Non per l'oltre di cazzo Vai raguiglia, stavo a scherzando Sopra di roba E probabilmente ci sono un sacco di gente qua Ci sono ancora 63 nemici Sopra i barili Padella e giubbotto a livello 2 Le uova mancano Oh, no, è come l'ho presa quella padella Diciamo che un fucile a padella La bomba lo tengo Ma se vedebbe solo un assalto Cos'è? Rega Gente, sento la mattina Ho sentito la mattina Io non ho sentito niente C'è un kit medico totale Vieni qua da me Ehm, ok Guardati indietro Bacello Cioè, l'inter sta perdendo quelli di cappella Chi è che sta perdendo l'inter? L'inter sta perdendo l'inter Sì Pure è il Napoli No, se il Napoli non va Mi dispiace Mi dispiace perché Come cazzo fa non andare? No, questo qua deve essere mio Sta perdendo pure il Tottenham Quindi Cioè, sto chiumaciando un po' che farò Sta vincendo l'inter Sta vincendo l'inter Sta vincendo il Barcellone Ehm Ma una tra intere totte non ci va Almeno non ve lo stracciano a schienire No, in Napoli se non ci va Perché raga, allora tengo una gaffa finalmente Raga, se vi avanzo è un milino Eh, sì, sì Raga, per esempio il per 2 C'è meno 3 o meno 2? Vai, lo tolto a lui Non mi capisco Allora, all'interno gli bastava puntuale di Che sta a fare i punti con il Tottenham Quindi Ma sta perdendo No, lo tengo, lo tengo E il Napoli invece sta a perdendo E non va lì Che passa? L'interno pure poi l'interno Eh, ma una tra il Tottenham L'interno va? Sì Ma l'interno va il Tottenham Ah, buon me Ma l'interno non va Anche se il Tottenham vince L'interno anche se vince non va Ma sta vincendo il Barcellone? Ehm Mi sa Allora del Top Allora del Top Allora del Top Ascolta, mica? Mi dai il per 2? Ah, oddio C'è, ce l'ho qua, ce l'ho qua, ce l'ho qua Io sono fatto il tempo, tutto rilasso No, vabbè, quello ce lo tengo, non ti per cosa Ciao ragazzo, no Ah boh, io non ti credo No Come fa a perdere, voi PSG vieni, te Eh No, andiamo, forza Aspetta, aspetta Aspettiamo la 6 Sì Però come il silenzatore è buono o no? Di bene Sì, perché non vedono davvero si sparano Buono, buono Poi io ho pure il smirio, quindi ci sa poi Beh Il Napoli anche lui sta perdendo Ah, bene C'è Il Napoli si basava pure il pareggio Ma guarda, perché Proprio le Le prese per il Il Napoli non può perdere, veramente Ci sta l'Inter Ci sta l'Inter Perché comunque Il Barcellona No, vabbè Ci sta l'Inter non tanto Però Cioè era pure di quarta fascia l'Inter Invece il Napoli Scusate, sono fatto io? No, non è assolutamente di quarta fascia No, è l'Inter di quarta fascia Beh, di quarta fascia, sì Tra virgolette potrebbe andare a tenere l'Inter Però Il Napoli stava a vincere 2 a 1 A Parigi contro il Paris Saint Germain Quella è arrivata dall'ultimo secondo Ma la finira a far con i gol E' un politico Esatto Esatto Non sarebbe stato un'impresa come vincere Ti roda un po' il culo Eh, ti credo Ascolta, ma Qua noi abbiamo dei problemi Perché quindi Tra poco Questa è stata Questa è stata Quindi Noi dobbiamo andare a fare Questa è che è stata Però Qui ci siamo già stati No Qui non ci siamo stati No Lì ci siamo stati qua Lì ci siamo stati Qui non ci siamo stati Eh, ok, perfetto Ragazzi, torniamo a dove stavamo prima Ditemi voi dove dobbiamo andare Siamo stati diversi Siamo di qua Andiamo qua Siamo di animo giallo Cioè, usciamo intorno Quindi andiamo al complesso di casa? Ok Alla persona sembra anche altra gente Ma diciamo bene Io bene Non me la posso la mangiare Qualche colpicino in più E sto perfetto Abbiamo un kit medico Tutale Sì Io ho 5 bande Vediamo bene Ma kit medico Cioè, il suo tipo di kit medico qua Cosa è che ti dà tutta la vita? E basta? Tutta la vita Io ho 15 bande Io non ho ancora una plana ragazzi Però Quando hai una plana Ce ne stavano Io posso fare male Che c'ho 15 bande Ah, allora mi sarebbe Mi sto un po' di male Bravo Ho paura Guarda Non saremo soli Ce ne sono ancora 43 persone Andate che ci guarda Cioè Ma che è il stare? Un barino di un mare Forza Qua c'è un po' di male Un 6 per Madonna Vieni prendersi il 2 per Qua c'è il 2 per ragazzi C'è un giu C'è un lo sai no No Io me la ricordo Me lo ricordo sto cazzo di aereo Nella lobby di un gioco Me lo sfanno No E' un po' di male Raga posso salire Raga posso salire Raga questo è sull'aereo Il 45 C'è Favolo in bascata Eh raga io non ci sono Dove stanno? Dove stanno? Io 45 C'erano spari Allora non li vedo Sarei tipo The Forest Esatto No però Mi sa che l'avevo visto a ho pubblico bai ma non penso di fare un'esercizionale ci gioco tipo due o tre anni da due anni dove sono a dove andiamo andando però dobbiamo passare di qui dobbiamo passare di qua e arrivare qui oh cazzo stai a sinistra punto verso 165 andiamo a questa edizione ma dobbiamo scegliere un crinale vedere bene e averli scappare coperte dall'auto cioè le spalle coperte la vetta qua della collina sul nostro fianco guardare guarda che mi spara ehm chi ci spara? a lui a thomas a voi non vanno visto probabilmente no almeno no ma però non andare, non andare, non andare, non dico guarda pusciamoli, pusciamoli dove 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 venivano? no non so da dove però raga non so da dove però raga non stanno per il 6 ma raga io vado tipo per gli alberi raga capite qua raga forse ci conviene di più stiamo curando si mettiti a posto hai usato un kit di pronto se è corso però no vabbè ho usato quello piccolo raga ho capito dov'è dove è dove è? non ho l'albero, davanti a mano quale? quale albero? eh aspetta che lo punto 230 poi ti ho capito quale io non vedo niente raga si lo sto vedendo mi sto mirando lo vado preciso dimmi la coordinata io non lo so metti il segnale no ok no raga non state eccoci mi fanno stando pure d'altro porto non so se è solo uno però si vedrai bancai dimmi la direzione tipo così però raga io vado verso il centro della te si anch'io punto il mirino punto il mirino ok raga lì lì dove va tutto io raga vuoi lo vedo lo vedo sta stracciato raga fatto scappò ok pronto si altra gente morto dove stanno allora sei tu la faccia di lì e comunque sulla nostra sinistra tipo 165 io sento troppi spari sì sì questa sabbia lo facciamo dopo ah vabbè ha detto già se l'ha addivinato già so il fatto è che non stava coperto stava piuttosto scoperto quindi ah sì 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 è ucciso quasi però tu hai 20 secondi poi torna indietro eh ragazzi intanto non lo trovo quindi questo non lo ho lì cioè in realtà stava qua non lo so dove andare ah eccolo sta qua vabbè mi prendo solo le cose importanti il bang il no raga mi sparano sparano era che sono morto copriamolo vieni c'è che ha mangiato le foglie giù dove era mezzo alle foglie non lo so non lo so andiamoci andiamoci c'è un po' di fumogine raga scopi andiamoci guardiamoci se il piede avesse granato in bocca qua ah c'è anche una fumogine qua le fumogine le servono no no sì però non finiamole ok auto sentito un auto ragazzi un'auto mi sa che era quella l'ora lo sapete eh no no guarda qui davanti noi dai davanti a me davanti a me ripeto no è la data ma è no ma mi sa che è solo mi sa che è solo mi sa che è solo eh mi sa che è solo datti un medic kit Thomas dati un medic kit eh ce l'avete eh devo prenderla allora c'è le bende dagli delle bende vieni ok 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 allora date delle bende almeno ora ti fido un po' allora vabbè mi faccio le bende dai ok ti copro faccio da scudo a mano anche perché vieni verso il safe vieni che mi hanno speso raga vieni 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 Gaetano stai coperto ma dove? d'accelo d'accelo in coordinato ehm 130 mi sa cioè sento gli spari da là ah raga dietro dietro 120 120 albero scendeva scendeva la collina però mi sa che c'è una vista la sapete non c'è la risca raga io vedo la macchina e dietro l'albero raga l'albero raga eh raga la macchina stai andando che c'è sono che c'è sono 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 è facciamoci cazzi nostri che siamo a 12 facciamoci cazzi nostri 20 o 12 ci sono 8 i miei miei rimasti dai appunto in tutti in totale siamo a 12 raga 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 175 raga 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 dai dammi veloce passami il silenziatore come si lascia lascia oh cazzo la sicura che va che non guardi qui si sa so io io sento due spagli e 3 avvienta verrebbero a ste due team e se no devo diritto per diritto in safe ci parliamo il culo però gli devo fare il giro d'attorno eh facciamo un giro largo no sparano no raga eh gingiagati oh no raga mi hanno preso ok raga poi stanno gli alberi mi devo abbandare raga perchè mi hanno abbaccato raga me lo do il kit grosso si guardatelo dattelo è il momento se mi mette come sparano eh sparano a 160 eh 120 dietro la pietra e l'albero guardalo lo vede mi sembra andato io devo fare il zig zag raga lo vedete raga si vanno a dietro io ho io ho a 160 155 andiamo raga non so se uno o no raga 7 secondi la session no 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 lo stai lei mettiamo troppo al campo aperto ma qua è difficile eh eh vabbè no tutto 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 l'albero sta in safe quell'albero sta in safe si buono cazzo tre metri dopo ok ok raga vedo uno sei immobile mi sparo sparo dove è si si vanno coordinati coordinati raga è la l'ho aiutato no ma no mi hanno messo la cappella no da dove no altro altro team altra parte in fondissimo no no grazie non ho capito come sia possibile questa cosa perché perché ci siamo fatti sentire ci siamo fatti sentire ma mi sa che era un team eravamo noi sono due persone due loro sono morti però uno lo scaracca con un x7 l'altro ha mx16 4a e hpm la madonna tutti con mirino questo qua è addirittura lo spinoro è la madonna questo lo prende però guarda voglio vedere come finisce voi siete già usciti tutti si si fai con congas devi devi si ma io probabilmente spengo no vabbè non lo vuoi che aspettacolo è rimasto la collina che era circa vicino a noi chiudegli sopra raga mi mando la rida amicizia ciao raga ciao 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 bello vabbè tu mandami la richiesta ciao ciao ragazzi peccato bello vero ho vinto quelli che ci hanno ammazato vinto ci credo ... ... ... ... ... 2 barro un po' c'è quasi un fisico dove è gioco? nooo ma quello che era entrato prima no ma che è successo ecco allora io non ho nessuno c'è c'ho uno però non so se entra uno che ieri sta a fare una live su youtube però infatti sta a fare la live siamo sfortunati per la connessione non lo so forse no ora dobbiamo usci tutti e non so manco come oh ragazzi io vado va bene ok ok bella lava ciao grazie ciao mi devi invitarle se scusa ma cosa ne pensi se adesso questo è più un attimo io vado di la mi chiedo se ho voglia di fare un 4 eh vai 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 almeno c'è un 4 sì sì grazie 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 ciao grazie 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 Quanti eri rimasti? 65 85 Eh Guardate voi mi faccio un po' di 9 Grande nagge Grande nagge No veramente mi fa un magliore A me Simo lo sa quante bocche che io ho fatto vedere nelle gambe Pestone Cosa è successo? Mi sono stirato l'inguide Ciao non cammini neanche Ciao Mi sono stirato l'inguide L'unica cosa che puoi fare è stare piegato Sto malissimo Piegata 90 Esatto Piegata 90 poi no eh non esageriamo No Io ho finito Gioca e partito Ho fatto l'abbinamento di chi ha l'ordine? di chi ha l'ordine? di chi ha l'ordine? 500bp basta in dispendizione quando ci sia chi accedibile negozio voi avete già aperto qualche cassa? non ci sono che buono si vede adesso ci siamo vado a vedere l'ho aperto minimo 7 casse dai arrivo sempre terzo in questo gioco arrivo sempre terzo aperto non ci bisogna vedi 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 Grazie a tutti 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 Ci dobbiamo arrivare a Steam Beach Scusate ho chiuso la porta Grazie a tutti Grazie a tutti Qualcuno Grazie a tutti Va a fare giro da dietro Grazie a tutti Uno solo Grazie a tutti Grazie a tutti Quanto Grazie a tutti Vieni qua No Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti E io no Grazie a tutti Grazie a tutti Scusa Grazie a tutti Grazie a tutti Ti lascio Grazie a tutti 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 Che palle No non ce la faccio Grazie a tutti 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 Biscotto Grazie a tutti 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 Scusa Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti